Città metropolitana, Comune di Venezia e Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo di intesa per garantire trasparenza e correttezza nell'utilizzo dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. In sostanza la città metropolitana e il Comune di Venezia si impegnano a fornire tutta una serie di informazioni e notizie qualificate, strutturate, circostanziate laddove nell'ambito della loro attività istruttoria, quando si procederà all'aggiudicazione dei lavori finanziati tramite il PNRR, di tutti quegli elementi che possono lasciare intravedere un rischio di frode, un rischio di fenomeno di corruzione, di illecita erogazione di denaro. La trasparenza degli atti e le verifiche di questo sono davvero bene accette perché fanno costruire un mondo di progresso e di competenza che il Veneto ha sempre dimostrato di avere. Ancora grazie per tutto quello che possiamo fare in chiave di collaborazione noi con l'istituzione della Guardia di Finanza. Un protocollo ben strutturato che dovrebbe fungere soprattutto da deterrente per evitare illeciti. L'obiettivo vero è che questi soldi del PNRR vengano utilizzati in maniera corretta e profigua per fare quello a cui sono destinati sulla base dei progetti che tutti i comuni e la città metropolitana di Venezia ha in mente di attuare. La durata del protocollo è prevista fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.